renegarlo perché altrimenti si negherebbe l'evidenza, però fino alla mezz'ora, fino all'errore sul primo gol eravamo riusciti a rimanere in partita. Poi abbiamo commesso un altro errore abbastanza grossolano sul secondo gol e sul 2-0, nonostante ci sia ancora tanta voglia e tanta determinazione, purtroppo non sempre la voglia e la determinazione sono sufficienti a ribaltare i risultati. Prima, alla fine della partita, ci siamo detti che ognuno di noi ha dato il massimo per poter dare il suo apporto, il massimo di ognuno di noi in questo momento non è sufficiente per battere il Catania, questa è la verità, oggi il Catania è stato superiore a noi in tutto e quindi onore al Catania che ci ha battuto, anche se ripeti i primi due gol erano chiaramente, anzi tutti e tre gol evitabili, perché in fondo Perrucchini non ha fatto neanche una parata, gli hanno preso tre gol, tre tire gli hanno preso tre gol, però la vittoria del Catania è sicuramente legittima. Grazie. 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 Grazie.